Il 2 gennaio per tirarmi fuori da una situazione di narcolessia, per tirarmi fuori alle 11 di sera, mi devi essere figlia e devi compiere gli anni, perché io stavo dormendo tutto il giorno, allora sento tua sorella, è il tuo compleanno? Sento tua sorella, la big in bed, che è nata il 2 gennaio, dormito tutto il giorno, telefono manco guardato, dico che facciamo domani? Domani? Non hai letto il passaggio? Andiamo stasera a mezzanotte? Via Nazionale? In un locale che si chiama Madre? Io faccio Madre, a mezzanotte Madre, usciamo stasera, quindi facciamo il compleanno tutti insieme, chi siamo? C'è Sanluca, la sorella, c'è sta mi madre, la madre, tecnicamente è ex moglie, c'è sta mi madre, c'è sto io, la festeggiata che non è reata, e c'è sta Giacomino Nazionale, il maschio latino, e c'è sta mi moglie, e c'è sta tua moglie per fare, la compaggine è moglie, fidanzato, figlia, ex moglie, figlia, Presidente, il 2 gennaio, tanti auguri amore, grazie, grazie amore di questa iniziativa, madre, madre, ci sono i varioli, no? No, era tutto chiuso, mi rispetta dove si abita, c'erano i varioli di mezzo, no? Era tutto chiuso. Molto bello, madre, eh? Ah, third day, I promise, e che amore, come già scritto nel biglietto, tanti auguri, e che valga la regola del 23, usate una, io da vedere, stavus, augure, grazie di tutto, la prossima volta, la fa vedere del mattino, la prossima volta, la fa pensare a sloccare, senza neanche, questo è pure il finale del salto.